che nebbione e noi stiamo in mezzo in mezzo agli oliveti Santeria, Valle Rotonda Claudio che potenziamento, ti faccio un culo così oddio, ora ce lo censurano pure il video, ce lo censurano perché è offensivo però Claudio ha infocato proprio il capitano che sta lì dal 18 al 20, 15, lo si, lo si, non ce lo fa più manca a parlare va bene